Parliamo di pallavolo con Modena Volley che prepara la sfida di sabato sul campo di Cisterna una tappa fondamentale nella rincorsa alla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia primo obiettivo stagionale per i gialloblu servono dieci punti nelle ultime cinque partite del girone d'andata contro una squadra Cisterna che potrebbe schierare l'ex Baranovic il palleggiatore rientrato dalla Bulgaria e tesserato appunto da Cisterna due trasferte consecutive sabato a Cisterna e il sabato successivo a Taranto poi Trento al Palapanini la sfida in Sicilia con la Farm Italia Catania quindi il Santo Stefano nel tempio del volley contro Piacenza queste le prossime partite della Valsa Group che chiuderanno il girone di andata di Superliga l'obiettivo della prima parte della stagione lo ha indicato in modo preciso Bruno un vincente che non ama nascondersi puntiamo ad entrare in Coppa Italia la grande sfida è raggiungere la Final Four ha detto il capitano di Modena Volley nelle prime sei giornate di campionato Modena ha vinto tre volte con Milano, Verona e Padova e ha perso altrettanto con Monza, Perugia e Civitanova in classifichi gialloblu hanno sette punti e sono nel gruppone che insegue le magnifiche cinque Trento, Perugia, Piacenza, Civitanova e la sorpresa che poi sorpresa non è Monza per stare tra le prime otto, magari più vicino possibile alle prime quattro posizioni nelle prossime cinque partite servono una decina di punti il cammino parte da Cisterna che ha gli stessi punti di Modena sette arrivati da due vittorie e quattro sconfitte, due delle quali al quinto sette una squadra pericolosa e tutta nuova allenata dallo spagnolo Guillermo Falasca che proprio sabato contro Modena potrà contare su un innesto di assoluto livello il palleggiatore Michele Baranovic che rientra a Cisterna dopo aver chiuso anticipatamente proprio in queste ore la sua esperienza in Bulgaria all'Ebar Coach Petrelli invece non avrà ancora a disposizione il libero titolare Federici operato lunedì al ginocchio sinistro e fuori fino alla fine dell'anno solare ma sta recuperando l'opposto, il russo Max Shapovkov è tutto per questa edizione del TRC Sport a tutti voi che ci avete seguito, grazie e buon proseguimento